Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è il 34esimo episodio della mia serie survival di Minecraft. Oggi ragazzi siamo qua dopo un episodio di esplorazione, infatti nello scorso episodio siamo andati un po' in esplorazione e abbiamo trovato i ciliegi. Eravamo andati apposta per quello, abbiamo trovato i ciliegi, funghi presi col tocco di velluto, pozzol, un alveare, dei grass block, alcuni fiori, abbiamo trovato le azalee, foglie di azalea, foglie di azalea fiorite, intanto dormiamo. E cosa voglio fare in questo episodio? Allora innanzitutto andiamoci a svuotare un pochino l'inventario, perché sì, raccoglierei anche queste carote velocemente. Allora svuotiamoci appunto un po' l'inventario e poi faremo diverse cosette. Allora questo qua sarà un episodio, non dico di stallo, ma un po' di miglioramenti e poi voglio fare anche una piccola cosina, cioè voglio sistemare un po' di cose. Allora innanzitutto mettiamo nelle ceste della natura tutte le cose che abbiamo preso, quindi azalee, il blocco d'erba, no, lo metto negli altri blocchi, tulipano bianco ce l'avevamo già, no, tulipano arancione nemmeno, e il tulipano rosso ce l'avevamo, no. Ok, allora dovremo tornare a prendere anche quello un giorno. Lasciamo i girasoli, lasciamo i petali di rosa, questi, poi gli arboscelli di ciliegie, in realtà li ripianteremo adesso, insomma, per farmarli. Poi di qua mettiamo questi blocchi qua, funghi rossi, gambo di fungo, blocco di fungo marrone, il pozzo l'era qua, grass block ce l'abbiamo da qualche parte, no, allora li mettiamo qua su. Qua mi sono accorto che ho due blocchi di muschio, che, cioè, dove li ho trovati? Non lo so, però con questi possiamo farmare il muschio, perché essenzialmente ci serve il buon meal e poi possiamo farmare il muschio, cioè, mica male. E poi allora blocchi d'oro, ci mettiamo anche questi, altri minerali, sì, abbiamo gli smeraldi, siamo a 44, poi la mela d'oro da lasciare qua, poi cos'altro c'è? Allora il letto qua nei blocchi funzionali. Ah no, questo, i ciliegi nel legno, le foglie di ciliegie alla fine non le avevo prese, quindi queste ciliegie me le tengo, così almeno quando farmiamo adesso gli erboccelli, cioè i ciliegi, prendo anche le foglie, oltre a suffering. Poi rimettiamo qua il cannocchiale e la bussola, rimettiamo i secchi qua al loro posto, eppure le lead, e che altro? Basta così in realtà, sì, dobbiamo solo farmare questi. La pala la rimettiamo? Sì, rimettiamola qua nella cesta. Ora, andiamo un attimo intanto a farmare i ciliegi, dove li posso mettere? Lassù no. Dove ci sono gli abeti no, perché lì appunto voglio fare un'altra cosa. Diciamo che per adesso potrei farmarli qui. Poi li spostiamo, eh, questa è solo una farm momentanea così veloce, anzi potrei prendere anche un po' di farina d'ossa. E farmiamo i ciliegi qua, poi li sposteremo. Non li terremo qua, questo spazio qua, poi lo libereremo. Voglio fare tipo una fontana al due di qua, o comunque un parchetto o un qualcosa. Comunque sfruttare questa distesa di verde. Oggi volevo fare una cosa molto carina che vi farò vedere fra un po'. Intanto prendiamo il bone meal, che sì, noi da... mi sa che ce l'abbiamo anche qua. Qua no, abbiamo le stringhe, ma il bone meal dovremmo averlo qua, ne abbiamo 45. Sì, a sto punto portiamoci dietro quelli. E poi... cosa ci serve, cosa ci serve... Per adesso basta, diciamo che possiamo farmare i ciliegi intanto così. Farmiamo i ciliegi e poi vi faccio vedere cosa volevo fare. Poi potremmo incantare anche dei libri. Mi prenderò poi dei libri e andrò a incantarli. Questo è il primo. Eccolo qua. Facciamo anche questi due. Li farmiamo così un pochino, giusto per avere un po' di sapling. Vedete, eccoli qua. Bellini. Anzi, bellissimi. Questi alberi di ciliegio, raga, vi giuro, sono la svolta. Sono troppo belli. Sono... boh... troppo belli. Poco da aggiungere. Veramente bellissimi. E allora... Qua prendiamo il legno e poi prendiamo anche le foglie con le nostre cesoie. Poi guardate questi petali così, ma sono qualcosa di... troppo bello. Prendiamo le foglie così ce le teniamo anche un po' da parte. Le... sì, dai, le mettiamo... sì, sì, sì. Le teniamo da parte. Io direi di finire anche queste cesoie. Cioè, le abbiamo praticamente finite e siamo a mezzo stack. No, un po' di più in realtà. Ah, ci ho già dato anche dei sapling. Cioè, ragazzi, ma questi ciliegio si farmano è una meraviglia. Meno male, perché altri alberi ci hanno fatto un po' patire, eh. Tipo le... le querce scure un pochino, ma soprattutto le... gli abeti. Comunque abbiamo uno stack e 15 di foglie e tre arbocelli. Cioè, direi meglio di così, veramente... Magari ne fermiamo un altro po', vediamo quanti arbocelli ci danno questi alberi qua, se li lasciamo proprio qua. E nulla. Però, ecco, sì, non siamo messi troppo male, sembra, almeno per adesso. Continuiamo a farmarli. Intanto io in mezzo a questi ciliegi mi sento veramente in paradiso. E quando farò il progetto che vi ho annunciato nell'episodio 32, laggiù sarà proprio una meraviglia, una meraviglia davvero. E com'è possibile che continui... Ah, ok. Prendiamo un po' di foglie anche da qua, finché non finiamo le cesoie. Ok, cesoie finite. Abbiamo in realtà tocco di velluto su una pala. E... però vabbè, siamo a uno stack e 40, dai sì, forse ci può bastare. Aspettiamo adesso i sapling e poi semmai altre foglie le riprenderemo in un altro momento. E prendiamo un po' di questo legno, che è troppo bello. E continuiamo a farmarli. Cioè, guardate che bello che è. Guardate che bellezza. No, raga, vi giuro. Scusatemi, ma a quanti sapling siamo con solo tre alberi? Per adesso, con tutte queste foglie qua, ancora quassù, siamo già a 11 sapling. Cioè, raga, è una roba... boh, incredibile. 12. Io ne ripianterei anche qualcun altro. Guardate come piovono. Cioè, veramente, come pioggia. Che spettacolo. Che spettacolo. Io ne ripianterei subito qualcun altro. Ripiantiamo ne altri tre. E io mi farei altre cesoie per prendere altre foglie. Perché ora che ci penso, questi petali, vedete, cascano, ma non si depositano. E i fiori che troviamo nel bioma dei ciliegi non li possiamo mettere sull'acqua. Quindi, potremmo mettere direttamente le foglie sull'acqua. Cioè, metterle tipo così. Vedete, così sembrano i petali di ciliegio che stanno viaggiando sull'acqua. Ci starebbe, ci starebbe. Ho sprecato un blocco di foglie, è giusto così, per farvi vedere quello che pensavo. Ma non importa. Guardate quanti sapling. Guardate quanti sapling. No, raga, non ci posso credere. È una meraviglia farmare questi alberi. Guardate quanti sapling. Siamo a 21. 21. Guarda, solo con questi. E quello là, 22, 23, altre foglie. 24, 25, 26. Raga, cioè, ce ne sono tantissimi. Potremmo già fare tutto il viale di ciliegi. E poi, altro piccolo annuncio. Qua ci voglio fare una vaschetta con i pesci tropicali. Ci voglio mettere dei pesce palla, degli altri pesciolini tropicali, magari. Quelli che si prendono col secchio, o gli axolotl, non lo so. Però ci starebbe a mettere, cioè, i pesciolini lì. Io, raga, non riparo. Cioè, guardate quanti sapling stanno cascando qua. Comunque, allora, cosa volevo fare in questo episodio? A parte che, sapete, ci sta un alberello di ciliegio, così, in mezzo a questo spiazzo. Così, a caso, un alberello e basta. Non sarebbe mica male. E, comunque, vabbè, a quello ci penseremo poi quando faremo questa parte qua. Però, per adesso... Sì, perché poi adesso, oltre che alle farme e tutte le cose, voglio lavorare molto anche sull'estetica del mio mondo, che qui sta un sacco, soprattutto con questo nuovo aggiornamento. Qua, ragazzi, volevo fare una cosa, un po', una cosa interessante. Volevo mettere, tipo, dei guardiani qua. Cioè, un guardiano, una pecora, jeb, di quella che cambia colore, fare la guardia qua. Quindi potremmo spostare tutte le cose che abbiamo nelle ceste, potremmo spostarle in quest'altra ceste, levare queste e questa lana qua la spostiamo di là, e fare, appunto, uno spiazzettino per metterci la nostra pecora jeb. Quindi questa lana possiamo metterla, appunto, qua. Però prima pensiamo a come sistemare le ceste. Andiamo a prendere anche un po' di fence. In tutto ciò, raga, siamo a 35 sapling e 37 stick solo da questi alberi. E non solo, guardate quanti ce ne sono ancora da sopra. Guardate, non si ripara, è incredibile. Tre alberi ci hanno dato una quarantina di sapling, considerando che comunque molte foglie, cioè uno stack e mezzo di foglie, più di uno stack e mezzo l'abbiamo preso noi. Comunque lasciamo tutto qua nella cesta del legno, almeno aggiungiamo un nuovo legno qua, e lasciamo anche i sapling qui per il momento, perché per il momento, insomma, non ci serve farmarli. Le foglie, ma sì, lasciamo queste qua, lasciamo le qua nelle cose della natura. E buon mio, lo rimettiamo a posto insieme agli stick. Adesso dobbiamo sistemare la roba della pecore, cioè delle pecore, prendiamo le fence, si è detto, e sono qua, mi servirebbe però un cancellino. Facciamoci un subito. Ok, ce l'abbiamo, e adesso possiamo andare a fare quello che dobbiamo fare, lasciamo il legno qui, gli stick li lasciamo di qua. Ah, però ci serve la name tag anche, ne abbiamo una sola. Eh, la usiamo? Ma sì, dai, per ora la possiamo usare. Tanto per adesso non devo dare tanti altri nomi ad altri mob, o ad altri animali. Qui poi ho notato che vicino, a parte guardatela quanti mob che vogliono impestare il mio mondo di ciliegi, tranquillo e tutto, bellissimo, lo vogliono rovinarlo. Comunque, qua ho notato che c'è poca illuminazione vicino a questa pecora qua, questa enorme pecora. Quindi è il caso di sistemarlo un pochino. Una roba così, insomma, tanto per illuminare un po' la zona. Anche qua, magari. Ok. E dicevamo, facciamo il recinto. A questa pecora, cioè a questa name tag, adesso gli daremo il nome. Intanto facciamo il recinto. Ok, si potrebbe tipo scavare qua una roba così, più o meno, anche un po' di più. Sì, forse anche un po' di più. Cioè, tipo, se noi mettiamo, no? Una roba così. Così, no? Dovrebbe, però forse dovremmo collegarla anche qua. No, però, perché vedete, poi viene una roba brutta se si collega alle altre. O non lo so. Cioè, non lo so. Proviamo. Così, tipo, alle ceste non si collega, mi sembra. Può dire, no? Non si collega alle ceste. Però così mi fa un po' bruttino, no? No. Forse no. Serve solo un qualcosa per... Vabbè, le ceste ci arriviamo da qua. E... No, forse ci sta, dai. Magari mettere della terra lì. Qua vedo che l'erba finalmente sta crescendo. Almeno stavolta sta crescendo. Ci servono solo tre pezzettini di terra, quindi possiamo prenderle anche da qua. Tipo uno, due, tre, anche così. Non mi sembra che si rovini troppo l'ambiente. Andiamoli a mettere subito là e ci prendiamo la nostra pietra. Questa pietra qua, uno, due e tre. E ci mettiamo la terra. Questa qua che abbiamo preso, dov'è il terzo? No, raga, non ci credo. Ho lasciato la macchie palle. Allora, qua leviamo questo. Ci mettiamo il cancellino. E qua mettiamo la nostra terra. E direi che questo lo lasciamo così. Sì. Ok. E qua ci mettiamo la nostra pecora. Jeb. Giusto? Sì. Non so se scavare un altro pochino. No, forse va bene. Anche così. Però ci serve anche un po' di grano per portarcela. Sennò non ci seguo. Quindi andiamo a rinominare la nostra nametag. La chiamiamo Jeb. Com'è? Chi era? No, un attimo. Perché non mi ricordo se il trattino era all'inizio o alla fine. Forse dopo. Ok. Sì. Era in fondo. Quindi la rinominiamo Jeb. Così. E il trattino basso in fondo. Costa un solo livello. Ce lo possiamo permettere. E anche se così non possiamo... Ai ai ai. Non possiamo incantare i libri da tre... Non possiamo... Ci usagliamo un incantamento da tre livelli per i libri. Vabbè. E allora portiamo adesso una pecora. Una sola mi raccomando. Solo una. Una. E le altre chiuse lì. Bene. E adesso seguimi. Vieni qua. Ti porti in un posticino molto bellino. Ti farò diventare la queen di questo posto. Guarda tutto il tuo popolo di cui poi diventerai regina. Vedi Simba? Un giorno tutto questo sarà tuo. Proviamo a spingercela dentro che se no non entra. Bene. Qua chiudiamo. E infine ragazzi. Jeb. Eccola qua. La regina della nostra farm di pecore. E qua adesso svuotiamo tutta la lana. Ci mettiamo tutte... Tutta la lana che abbiamo preso prima dall'altra cesta. Queste quattro ceste ce le teniamo per fare gli opero proprio come ceste di scorta. E ragazzi laggiù c'è la nostra pecora regina Jeb. Bene. Adesso. Qui poi questa... Questa parte qua la sistemerò eh. Cioè non la lascerò così tutta di pietra. Quando avremo tanta lana. Farò tutte le pareti del colore delle rispettive pecore. Tipo qua. Tutta la striscia che arriva fino qua su a metà verde. Di qua gialla. Di qua verde scuro. Di qua azzurro. E così via. Ora voglio fare i tappetini da mettere qua sopra per salire... Per andare di là dalle pecore insomma. Quindi mi servono due di lana bianca. Queste qua. Prendiamone metà intanto. Ci facciamo le varie cose. Così li facciamo no? Prendiamo vedete i tappeti. E lo facciamo per tutti i colori. Il grigio eccolo qua. Ci facciamo i tappeti grigi. Poi ci facciamo i tappeti grigio scuro. Da mettere appunto sui recinti le rispettive pecore per poter entrare più facilmente. Diciamo senza dover aprire sempre il cancello. E noi possiamo entrare ma le pecore non possono uscire. Quindi è anche utile come cosa. E facciamo così per tutti i colori. Adesso anche per tutti gli altri colori. Per questi qua. Anzi intanto magari mettiamo questi. Mettiamoli qua. Vedete? Tipo qua per le pecore. Non posso metterli. In che senso non posso metterli qui? Ah! Forse perché c'era la pecore. Va bene. Poi per le pecore grigie qua. Spostatevi. Grazie. Per favore. Ok qua. Poi per quelle grigio scuro. Per quelle nere. E così via. Vedete? In questo modo noi possiamo fare così ed entrare e uscire quando vogliamo. Ma le pecore non possono uscire. Facciamola anche per gli altri colori. Per tutti gli altri otto colori che ci manca. Perfetto. Ora che abbiamo fatto sta cosa su tutti i recinti. Qua non credo serva in realtà. Possiamo benissimo saltare da qua ed entrare lì. Anche se non ci serve tanto entrare lì. E niente. Ora che abbiamo fatto sta cosa possiamo uscire dalla farm di pecore. Potrei sfruttare il fatto di essere qua per raccogliere un po' di lana. Ma sinceramente mi fa fatica. Adesso voglio fare altro. Ovvero la cosa che volevo fare proprio in questo episodio. Adesso vi faccio vedere tutto. Cioè in realtà non so come verrà di preciso. Cioè non so se sarà una roba bellina oppure no. Cioè per la notte sì. Almeno a me mi ispira molto. Quel celegio che cosa... Cioè perso un ramo vabbè. Comunque per la notte dicevo mi ispira molto come cosa. Per il giorno non lo so. Vediamo. Però intanto facciamola e vediamo. Allora cosa ci serve? Ci serve un propagulo di mangrovia. Uno. Poi ci serve del bon meal per farlo crescere. Poi dell'edera. Ne abbiamo una sola. Cioè rampicante. Una sola. Ce ne servirebbe qualcuna in più. Vabbè le prendiamo con questo cestoio che ci siamo dimenticati di lasciare nelle cestre delle pecore. Il grano uguale. Andava lasciato alla forma di mucche. E poi cosa prendiamo qualche lanterna. La lanterna... Le lanterne le facciamo adesso. Prendiamo un po' di ferro e le facciamo. Ecco tipo questo qua. Ne facciamo un po'. E poi che altro volevo mettere? No. Per il momento forse basta questo. Allora intanto facciamo le lanterne. Ne facciamo cinque. Sì. Ehm. Ok. E adesso vi faccio vedere che cosa vi ho in mente. Intanto prendiamo le rampicante. Prendiamo sì queste cinque. E ecco no poi dovevo tornare sì nel magazzino per prendere altre cose. Qua intanto sta piovendo e poi ho constatato che la mia spada è fortissima. Cioè ho ucciso un ragno con due colpi soli. Ehm. Quindi insomma tanta roba. E poi devo tornare ecco nel magazzino per prendere un po' di radici di mangrovia nel caso non crescesse come voglio io. Adesso poi insomma vedrete meglio cose in mente. Guardate i belli questi ciliegi. Sì uno mi sa che ce lo lascia. Se non lo so perché se poi la facciamo un viale pieno forse qua non serve nemmeno. Lo so vedremo. Oppure ci mettiamo altre piante. Boh vedremo poi. Prendiamo delle radici di mangrovia. Queste qua. Sì va bene anche così. E adesso vi faccio vedere cosa volevo fare. Finalmente direi perché insomma è un pezzo che ve lo dico dall'inizio dell'episodio che ve lo dico. Allora intanto vi faccio rivedere questo bellissimo falò che a me piace un sacco. Dicevo intanto distruggiamo questo abete perché è un po' nel mezzo. In mezzo a quello che voglio fare. Quindi distruggiamolo e niente aspettiamo che si distrugga. E poi qua. Allora volevo mettere un propagolo di mangrovia. Tipo qui. Più o meno. Sì. E farlo crescere. Vediamo cosa succede. Vediamo quanto ci mette a crescere. Se può crescere qua più che altro. Ci ho finito un mezzo snack di bon meal e questo non è ancora cresciuto. Ma raga siamo sicuri che possa crescere. Forse non può. E qual è il problema. Prendiamo un altro po' di ossa per fare il bon meal ma. Insomma non capisco quale sia il problema. Cioè non può crescere lì. Evidentemente no. Forse è troppo sul bordo. E non avrebbe appoggio per un lato di radici. Non lo so. Raga proviamo a dargli un altro po' di bon meal ma. Ma poi io c'è più di questo non so che fare. Proviamo a dargli questo. Vediamo se vuole crescere. E sembra di noi in realtà. Quindi forse non può stare qui. Spostiamolo. Prendiamolo. Ce l'ha dato. Eccolo qua. Perché se serviva il tocco di velluto e l'esceso io mi arrabbiavo. Proviamo a metterlo qua. Vediamo se qua cresce. Nemmeno qua. Non ha abbastanza appoggio. Spostiamolo qua. Oh qua raga se non cresci c'è il mio rabbio. Dai. Finito il bon meal. Ecco qua. Allora. Non è cresciuto come volevo? Sì. Forse sì. Sì dai. Diciamo di sì. Qua magari ecco metterei un po' di radici. Tipo prolungherei qua. Per far vedere come se stesse crescendo qua proprio sul, vedete, tipo qua potrei fare una roba così. Come se si stesse aggrappando a questo terreno qua, no? Ora questo forse è un po' troppo lontano per farlo arrivare fin qua. Però già così l'idea la rende. Guardiamo un po'. Così magari questo lo faccio scendere ancora più giù. Oppure sì, così ci può stare. Questo potrei mettere là sotto. Fatemi andare a vedere in acqua com'è. Che bel bufo che ho fatto. E allora potrei mettere... No, forse ci sta. Sembra abbastanza attaccato alla terra. No, forse meglio mettere un altro po'. Però ci servirà forse un secchio d'acqua per lavorare al meglio. Cioè le nostre impalcature sono i secchi d'acqua essenzialmente. Non mi ricordavo che le rampicanti crescessero direttamente sulle mangrovie. In questo caso non ne abbiamo bisogno. E raga, cioè è venuta... L'albero è venuto proprio come volevo io. Basta appunto fare qualche ritocchino per le radici. Però poi per il resto è venuto come volevo io. Un po' sporgente e così. Adesso vi faccio vedere cosa avevo in mente. Allora, mettiamo l'acqua magari qua in modo da poter lavorare con le radici come vogliamo. Tipo, allora, potremmo metterne un'altra qua e metterla lì. Almeno, vedete, se tipo faccio così, sembra abbastanza incollata al terreno eppure di là. Chi è? Maledetto! Dov'è quello col tridente? Ah no, non c'è nessuno col tridente. Ma quello piccolino che cos'ha in mano? Cos'ha in mano raga quello piccolino? Cos'è quello a fare? Eh, è un arco? Cos'è? È una canna da pesca! Maledetto! No, vabbè. Ora, per le radici di qua potremmo mettere solo un blocchettino interno qui. Tipo, distruggere questo blocco di terra e metterci questo qua di radici. E basta. Vediamo da lontano un po' come viene. Tra l'altro sta anche facendo notte. Comunque raga, tuffarmi in quest'acqua mi fa venire voglia di andare al mare. Un'ape! Che ci fa questa qua? Mi serve una lida assolutamente. Mi interessa, dormiamo e la portiamo. No raga, mi serve una lida un'ape qua. Devo attaccarla da qualche parte. Magari lì, lì nel campeggio. No raga, se ci riesco, se ci riesco, se ci riesco, devo attaccare l'ape al campeggio su. Non è despawnata, vero? C'è ancora? Ape? C'è ancora ape? Dimmi di sì. Dimmi che sei qua già pronta per farti catturare. No, non c'è più. Ma dov'è finita? Cioè, a parte cosa ci faceva una peli, ma poi dov'è finita? Cioè, letteralmente il tempo di muovermi, fare un passo, è sparita. Vabbè, nel caso dovesse rifarsi viva, abbiamo le lead per agguantare. Ora qui leviamo l'acqua e mettiamo, vediamo se posso mettere le lanterne tipo qua. Non posso metterle, eh. Allora proviamo a mettere tipo qui. Qui posso metterle una, due, magari tre qua sotto. Dove posso metterle? Poi sotto. Allora, rimettiamo un attimo l'acqua e vediamo se posso metterle qua. Qua tipo no, tipo qua anche una qui per dire, per illuminare un po'. Ok, me ne rimane una. Questa dove la posso mettere? Qua tipo non posso mettere delle radici. No, qua c'è un coso... Ma io metto le radici, chi se ne frega. Metto delle radici qua e una lanterna qui. Ok. Perfetto, dovrebbe essere venuta una roba bellina. Spero che di notte faccia un buon effetto. Però diciamo che questo è più o meno l'effetto che volevo ottenere, ovvero un albero che si sborgesse... Ah no, l'acqua leviamola, che è quello che vogliamo. Un albero che sborgesse da questo strapiombo e che illuminasse un pochino lo strapiombo. Vedete? Tipo quelle... Ora poi i propagoli li raccoglieremo poi. Però quelle lanterne dovrebbero un po' illuminare e niente. Quindi vediamo ora appena fa notte che effetto dà. Intanto prendiamo quei ciliegi. Come se non avessimo già abbastanza sapling o abbastanza cose di ciliegia. Cioè guardate qua, devo ancora distruggere il terzo albero? Qua c'è già il devasto. Che poi per carità ci serviranno i sapling perché dovremo piantare tanti alberi. Però ragazzi, cioè... Addirittura pensavo di farli in due direzioni il coso. Una che arriva fino in là, poi il palazzo e poi una che continua in là per il fiume. Visto che comunque c'è un altro bel tratto di fiume. Però ragazzi, cioè, siamo già a... In totale uno stack di arbocelli, mancano ancora tutte queste foglie qua. Io non oso immaginare, però vabbè, non ce la mentiamo. Sicuramente meglio un in più che un in meno. E considerando che di solito ne abbiamo sempre un in meno, di qualsiasi cosa io non mi la mente l'è. Comunque guardate anche da lontano che bellina. Cioè, ci sta quella mangrovia lì, così, sul nostro piombo. Ora appena il sole si decide a tramontare, vediamo un po'. Intanto, ecco, potrei incantare dei libri. Mmm, no, sarò nel prossimo episodio, questo sta già durando tanto. Eccola qua, mi era entrata in casa alla fine, ragazzi. Questa la portiamo nel nostro campeggio. E adesso vieni qua con me e mi segui. Era entrata in casa mia. Vedete, voleva già venire qua. No, no. Aspetta, puoi venire, scendi giù. No, qui, per favore. Dai, ti prego, non farmi rompere anche questa lib. Puoi scendere. Ti prego. Ecco, l'ho dovuto levare le scalette per farmele riprendere. Non andare... No, no, torna giù, ti prego, torna giù. Vieni qua, seguimi. Seguimi. Seguimi, seguimi, seguimi. Brava, ti attacchiamo qui. Adesso rimarrai qua nel nostro campeggio. Che carino. Occhio al fuoco, eh. Non morire, che non ci tengo a farti morire. Però adesso sei qua nel nostro campeggino. Bebbina sei. Che consiglioncino, bebbina. Ficilina. Cioè, piccina, insomma, per essere un'ape è grossa quanto un cinghiale. Però, vabbè. Cioè, sta facendo notte, raga. Io controllo. Di nuovo, sbocciato qualcosa nelle fornacce. Perché ogni tanto metto la roba a cuocere, ma me la dimentico. Ok, sta facendo notte. Allora, non è poi così male. O ti può mettere una luce anche dentro. No, forse le lanterne sono un po' troppo vicine. Potrei metterla un po' più in su una? Sì, forse potrei. Allora, andiamo a sistemare un attimo. Tipo qua le radici e qua la lanterna. Ci può stare? Vediamo. Allora, qua non è per niente male. O tipo un'alluminite anche là in cima che illumini anche l'interno. No, forse no. La nostra petta è sempre lì. Bellina. Vediamo da lontano come viene l'effetto. Allora, da qua ci sta. Sembra proprio sì che si stia arreggendo alle pareti del... La devo metterlo, sorge. Alle pareti della cosa, della... Vedete? Là, alle pareti dello strapiombo. L'ho fatta a spiegarmi. Allora, innanzitutto Mori, che io voglio vedere da lontano la mia costruzione com'è. Cioè, la mia mangrovia com'è. Quindi se ti devi levare di torno. Allora, vediamo tipo da qua. Per me è molto carina. Ci sta, ci sta. C'è una roba un po' sullo strapiombo. Bellina. O mettere anche qualche altra lanterna che scende giù. Ma per adesso potremmo anche lasciarla così. Un po' di lanterne le abbiamo messe. Non ci rompete le scatole. Guardate. Cioè, anche così secondo me ci può stare. È comunque bellina, no? Forse si mimetizza un po' con la montagna dietro. Però tutto sommato a me piace. No, sì, è bellino. Ci sta, dai, per ora lasciamola così. Io però, raga, ho un fungo lume. Provo comunque a metterli in cima. Ora stiamo attenti, scriviamo i creeper e tutte le cose che non vogliamo morire. Tipo, potremmo metterlo qua dentro. Qui in cima. Magari anche coperto da delle foglie. Potremmo fare tipo così. Levare magari queste foglie qua. Le levate troppe. Le mettiamo qua. Tipo una, vabbè, sta qua. Una la mettiamo sopra. Questo lo leviamo, l'ho usato solo nel blocco d'appoggio. E niente, scendiamo e vediamo un po' come viene il risultato. Onesto, raga. Devo dire onesto, già molto più bellino. Vedete, è tutto illuminato. Ora si vede già di più questa mangrovia. Bene, ragazzi. Quindi, io e la nostra apetta, laggiù in fondo, vi salutiamo. Con questa mangrovia dietro, con questo bellissimo sfondo. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa mangrovia. Di com'è venuto questo strapiombo illuminato. Fatemi un po' sapere se vi piace oppure no. Ricordatevi che se vi siete persi gli altri episodi di questa serie, trovate in descrizione la playlist con tutti gli altri episodi. E non perdetevi nemmeno i prossimi, perché, appunto, come avevo annunciato negli episodi precedenti, ho un progetto davvero interessante in mente. Ricordatevi anche che a 1500 iscritti uscirà la mia top 10 manga e anime la giornata. Adesso sta anche facendo giorno. Qua vediamo quel chiarore lì all'orizzonte. E, ragazzi, passate anche da Instagram e da TikTok e trovate sempre in descrizione o qua nella schermata. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, raga!